Buongiorno a tutte e a tutti, grazie di avermi invitati, io non sono giornalista, sono blogger, all'estero mi dicono, allora è giornalista? So che in Italia non è così, però diciamo sono blogger ma non sono giornalista. Credo che sia molto pertinente il mio lavoro con il titolo di questo panel, Bulimie, perché io mi sono occupata di bulimie di corpi di donne. Mi sono occupata di un tema che è il più impopolare in Italia, perché io ho visto con grande partecipazione e devo dire sgomento il documentario di prima, però mentre c'è giustamente partecipazione e anche orrore di fronte a un documento così, spiace dire che di fronte a dati, ieri abbiamo onorato la giornata contro la violenza alle donne, quando io dico ai dibattiti che in Italia la prima causa di morte delle donne è che noi moriamo picchiate e si muore di botte e questo è un dato che suscita a volte fastidio, ma diciamo che mi occupo in assoluto del tema più impopolare in Italia che sono le donne. E' uscito l'altro giorno il dato sul gender gap, che è l'indice che misura la differenza di gap, il divario tra i generi e l'Italia al 74esimo posto. Quando dico così mi chiedono, lei è femminista? No, dico dei dati. E quindi non è importante essere femminista o meno, è un dato che riguarda il paese. Ci occupiamo del 51% della popolazione, quindi non di una minoranza, ci occupiamo della rappresentazione del 51% della popolazione, quindi della maggioranza della popolazione. E credo, vi chiedo veramente di fare lo sforzo di partire da questo presupposto, perché solo in Italia, dico delle cose scomode ma perché mi fa piacere con questa platea arrivare al dunque, voi siete giornalisti, è diverso di quando vado ai dibattiti o nelle scuole, capita, vi assicuro, solo in Italia che questo venga visto come argomento da femminista. Questo è un argomento che coinvolge la maggioranza della popolazione e quindi la maggioranza degli elettori, che sono elettrici. Dunque, questo lavoro, questo documentario, di cui adesso è un documentario che dura 25 minuti, ho portato solo un estratto di 4 minuti, e comunque se lo volete vedere è online, il corpodeledonne.com, è nato dal fatto che io non ho visto la televisione per anni. Io, come vi dicevo, non sono giornalista, sono stata dirigente di aziende straniere e consulente per la comunità europea, e per anni ho vissuto all'estero. Ed è successo semplicemente che quando sono tornata in Italia, lo racconto nelle scuole, ho acceso la televisione. E quello che ho visto mi ha stupito. Quindi il primo dato che ho rilevato e racconto nelle scuole è che non c'è all'estero una televisione così. E questo è un dato interessante, perché visto che siamo comunità europea, sarebbe interessante che anche la televisione avesse delle guide, una guida simile a quella di altri paesi. Quindi ho visto qualcosa che non vedevo, non vedevo, ho vissuto in Germania, in Inghilterra, in Francia, e quindi mi sono stupita. La seconda cosa che mi ha stupito è che ho cominciato a telefonare a tutti, da mia madre agli amici giornalisti, agli amici registi, agli amici manager, sono davanti alla televisione, c'è una sotto il tavolo. Pensavo di aver beccato, non sto scherzando, un'immagine eccezionale, eccezionale, chiamiamo la trasmissione, chiamiamo i quotidiani. E la risposta era, no, no, dice Lorella, è la televisione. Ah, ma questo tutto, guardate, racconto solo la verità, quindi questo è il punto. E quindi mi sono accorta che in questi 30 anni, 20 anni, era successo che, come il veleno, una piccola dose al giorno, questa è la televisione. Poi mi sono accorta, scusate perché, visto che abbiamo poco tempo, sono costretta a correre. La seconda cosa di cui mi sono accorta è che c'era un gruppo di persone a cui dicevo, ma che cosa accade? E mi diceva, è la televisione, ed era normale. Poi c'era un gruppo consistente di amici, colte, intellettuali, che mi diceva, sì, ma la televisione tanto io non la guardo. E questo mi è sembrato gravissimo. Questo forse mi è sembrato, è la cosa più grave che ho sentito dire. Cioè, i miei amici, che avevo perso magari di vista, che di sinistra, e ormai lo metto solo tra virgolette, che mi dicevano, io tanto non la guardo. Mi ricordo uno che mi ha detto, ma io la sera leggo Baudrillard. E la cosa che mi sono accorta contemporaneamente è che invece la gente in Italia, la televisione, la guardava, e tanto. E quindi ho visto che da una parte c'era tanta gente che guardava la televisione. E quelli che potevano fermare questo brobrio, negli ultimi vent'anni facevano altro, e quindi avevano spento la televisione. Spegnere la televisione, mi sono accorta, che è un atto elitario. Spegnere la televisione, a mio avviso, ha voluto dire che intanto c'è stato quello che noi sappiamo c'è stato in questi trent'anni. E quindi la mia reazione è stata di dire, no, non spengo la televisione, non l'ho vista, non c'ero, ma forse sono colpevole anch'io, adesso la guardo, ne guardo tanta e faccio qualcosa, visto che ho conservato questo sguardo critico. Quindi, avevo già fatto un documentario nella mia vita, era un po' una passione, un hobby, non era una professione, insieme a due amici, di cui uno è montatore professionista, maschi, ci siamo focalizzati sull'intrattenimento, abbiamo pensato che non potevamo prendere in visione tutto, e abbiamo visto in un tempo ristretto 400 ore di intrattenimento televisivo, sia registrando, quindi quello che andava in onda, sia andando su YouTube. Perché 400 ore per 25 minuti? Perché volevamo fare un'analisi ben fatta. È un'esperienza forte, però dico che vedere almeno otto ore di fila la televisione è un esercizio di grande cittadinanza attiva. Cioè, lì ho capito tante cose di come votiamo, del paese che siamo, lì ho capito l'Italia, perché votiamo in un certo modo, da lì è passato tutto. Lì ho capito le notti di Arcore, lì ho capito tutto. E quindi è stato un grande aiuto. Abbiamo fatto questi semplicissimi 25 minuti. Perché 25 minuti? Perché da subito abbiamo pensato che volevamo metterlo online gratuitamente. Perché io volevo arrivare a ragazze e le ragazze italiane. Diciamo, ho detto, ok, prima che sia troppo tardi, faccio in modo che qualcosa accada a loro. Abbiamo aperto un blog, su Blogspot, abbiamo fatto un montaggio 25 minuti, io ho scritto il testo e nel maggio del 2009 l'abbiamo messo online. Bene, non abbiamo nessun ufficio stampa, fino al momento in cui abbiamo messo il documentario online non c'è stato un euro di investimento, non ci sono stati soldi investiti, una quantità di lavori immensa. E basta. Dal maggio del 2009 a oggi il documentario è stato visto da 4 milioni di persone solo attraverso il passaparola. E questa cosa, diciamo, che ha cambiato le nostre vite. Mia, Di Marco e di Cesare Cantù, che sono gli altri autori.